Siamo a Cereggio, vicino alla sorgente dell'acqua Cereggia. In questo magnifico campo, così ben rasato e preparato, la ASD Santa Lucia Russolone ha organizzato il trofeo RDM in memoria di Zini Luciano, un carissimo amico. Qui vediamo appunto le coppe messe in palio per questa gara. Alcune associazioni che hanno partecipato e qui prima della gara i concorrenti si gustano degli ottimi piatti preparati dalla cucina. Ma usciamo fuori perché la gara sta per cominciare e andiamo a vedere i primi concorrenti. La gara sta per cominciare. La gara sta per cominciare. La gara sta per cominciare. Un'altra gara sta per cominciare. E allora 로zzo acha al piurne. Non c'è la mano, non viste? Non c'è la mano, non c'è la mano. E' bella Davidone, bravo! Bravo Davide! Eh se è venuto a scuritare. Bravo Davide! Buongiorno 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 Non faccio più la metà. Io faccio qualcosa. Ecco giù. Simone! È ferma? Non è tanto ferma. Grazie a tutti. 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 Occhio. Perfetto. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Bellissimo. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. tutti. tiri. a tutti. a tutti. stanno. a tutti. a tutti. a tutti. due finalisti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. secondi. secondi concorrenti. a tutti. secondo concorrente classe A finale. Questi sono i concorrenti della finale della categoria C, sono i primi che partono a tirare Rusolone. Finale categoria C, concorrente che parte, Michele. Sempre la finale categoria C. Ultimi tiri della categoria A, siamo all'arrivo. Altro giocatore, ultimo tiro. Se entra nelle porte, vince e devono farla bella. Allora, nella classe A, hanno vinto un match per uno, per cui devono fare la bella. Ottimo tiro. Vediamo il secondo concorrente della finale della classe A, che parte col primo tiro. Anche lui ha passato i due pali, ottimi tiri. Secondo concorrente della bella della classe A. E io vi dicevo, non faccio più bene, perché lui, l'ultimo attirato dal divaro, era una finestra. E non la faccio più bene. Luciano Vini. Bene. Abbiamo secondo classificato due torri Benedetti Mario e Iubini Marino. E primo classificato, Vini Loris e Vini Doni. Dennis, scusate. Di là della rete, premia l'assessore o il consigliere allo sport del comune di Vergato. Allora, questo è il secondo, il secondo e, aspetta, ti faccio fare il secondo te e la Chiara dal primo? Chiara, la Chiara rocchetta è sempre così, per il primo. Andate. Dove sono andati? Di là, di là. Mario. Il terzo non c'è, Marino e chi? Benedetti Mario. Di là? Potete andare. Al primo, ai due ragazzini. Eccoli qua. Comune di Vergato, assessore allo sport e la Chiara. L'abbiamo visto. Il primo, ai due ragazzi, che c'è i due gagliardetti dentro. E il secondo... Allora, Dennis, guarda dentro, guarda dentro. Uno per uno. Stessa cosa, uno per uno. Bene. Fotografia, tutti insieme. Chiara, Chiara. Chiara, tutti insieme, bene. Bene. Loris, ti tocca a pagare, va bene. Bene. La famiglia, vieni! La Damigiana, però. La Damigiana, ma stai attento perché con i vini non sono stati attenti. Perché la Damigiana c'è. Bene, bene. Dai, dai con me. Bene, bene, bene. Categoria B. Vediamo alla B. Voi tre insieme. Voi tre insieme, dai. Dove andate? No! Sono capito che dove andate? Fermini. Per la categoria B abbiamo terzi classificati, Biagi e Bicocchi Montese che sono andati via. No, no, sono qua, sono qua. Sono qua. No, scusa, no. Biagi, allora dovete andare in fine. Per la categoria B. terzi classificati, Biagi e Bicocchi Montese, secondi classificati, De Franceschi Simone e Balducciati Franceschi Santa Lucia, primo classificati, Buonaccorsi Michele e Buonaccorsi Romeo. Il primo classificato, Romeo guarda dentro la coppa, uno per uno, bene, questo è il secondo classificato, il terzo dovete venire dopo, scusate Biagi, dovete venire qua dopo il terzo. con la maglietta? Mi segno che tu ne ho provo. La fotografia? Apro la maglietta, almeno. È un po' grandina, però va bene. Simone, sta su! Si è scelte per Malusi a questo ora. Bene, posto le foto? No, niente. Facciamo un ripriso. Facciamo fare una fotografia con loro? No, no. Non vuoi fare una cosa? No. Se ti vogliono. Voi finalisti della B dovete passare da Dennis qua, bene, categoria A, non c'è il terzo ma c'è il primo e il secondo, non è poco, allora abbiamo secondi classificati nella mista Ballotta Marco Santa Lucia, Biagioni Flaviano Fondovalle, primo classificato Balduccelli Mattia e Donini Giovanni, premia sempre il comune di Vergato, era Rocchetti, ormai ci sei, io, giusti, allora te giusti mi fai piacere, premi il primo che dà il bacio a Ballotta Marco, no il secondo che dà il bacio a Ballotta Marco, lei dà il primo, dai, no, 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 fermi, no, io marino, questo, chi dà il primo, chi dà il primo, lui, 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 questo è il primo, dallo il primo, no, Ballotta è il secondo, è il primo, al primo, gira Davide, dopo ti sfido, va bene, va bene, va bene, brevi e sempre il comune, primo, eccoli qua, bacio, bacio, eh, devi dare il bacio al primi, il primo, il primo, il secondo, Assessore allo sport del comune di Vergato e consigliere comune di Vergato, bene, eccoli qua, stiamo? Io vi ringrazio tanto a tutti i partecipanti al trofeo RDM e il memoria Dini Luciano, insieme al comune di Vergato e la SD Santa Lucia, grazie a tutti quelli che sono intervenuti e al prossimo anno speriamo che sia ancora più bello di quest'anno, bene, bene, grazie al signor Giancarlo che è venuto a riprenderci in tutta la giornata e vediamo al prossimo anno dalla grande memoria Dini Luciano, grazie a tutti, buona serata. Buonasera a tutti, ecco qua, siamo qua a Cereglio dalla sorgente Sergio dell'Acqua Cereglia nelle piste dell'ASD Santa Lucia per ringraziare e finire la serata del memoria Dini e trofeo RDM. Oggi la giornata si è svolta insieme al gruppi di Modena e di Reggio Emilia, è finita molto bene, questo memoria come tutti gli anni viene svolto e rispettivamente delle categorie A, B e C, noi a questo punto dobbiamo dire solo grazie a tutti i partecipanti e insieme vogliamo dire un grazie all'RDM e un grazie alla famiglia Zini Luciano che hanno partecipato e hanno vinto anche il memoria Dini nella categoria C. Grazie a tutti e al prossimo anno.